Quali sono i danni che ha provocato la mareggiata? I danni che ha provocato la mareggiata praticamente ha distrutto completamente le gabine, ha distrutto completamente le gettoie. Tutto quello che arriva nel barri qui nel campino è rimasto in piedi solo la direzione e il barri. Qui intanto abbiamo dei pali, è riuscito a piegare anche dei pali? Sì, ho visto il mare che è ammontato sopra dal morietto e ha piegato tutti i pali. Ma la forza del mare che si fa fare è veramente incredibile. Non avevate mai visto una cosa del genere? Io non ho mai visto i mareggiati grossi, ma non ho mai visto mai. Adesso chiederete i danni? A chi? Perché i mari della sicurezza non lo guardano. Quindi sempre il problema con i Tascanost. C'è anche un problema per la questione delle aste? C'è il problema per la questione delle aste che il prossimo anno è l'ultimo anno che ci si è realizzata con i pali. Quindi c'è già un vigore, però si passa alle aste. Visto che c'è la sicurezza di continuare qui e fare un investimento qui ora è un gruppo libero, possibile.